il sesto senso non esbalia mai quella sensazione che arriva sotto pelle è sempre quella giusta abbiamo tre vite quella pubblica quella privata è quella che si inventano per noi le persone pettegole mio nonno diceva non raccontare mai troppe cose di te agli altri ricorda che è il tempo di invidia il cieco inizia a vedere il moto a parlare e il sordo a sentire mi piacciono le persone ferite quelle che hanno paura mi piacciono perché pensano di non essere speciali ed invece non sanno che sono le persone migliori le persone che aiutano sempre gli altri sono quelli che si trovano da sole quando hanno bisogno di una mano all'inizio le battaglie le vincono i falsi perché sono i furbi ma la guerra la vince l'onesto perché persevera nella pazienza e nella giustizia rimanere se stessi è un'impresa devi lottare con tutti gli che ti vogliono come fa comodo a loro nessuno si accorge di quello che fai finché non smetti di farlo grazie mille per restare con just funny one ci vediamo alla prossima con un nuovo video grazie grazie